Io volevo viaggiare, perché viaggiare con una barca velera è un modo intelligente per farlo. Sei libero, perché non hai bisogno di niente. Puoi andare dove vuoi, quando vuoi. Perché usi il vento e quello è finito. Il mondo è cambiato. Non c'era niente in plastica. Il mare era molto più freddo. Da 25 anni a questa parte si sta prendendo mezzo grado all'anno. Mezzo grado all'anno, ragazzi, è una roba folle. Vuol dire che ha assorbito talmente tanto calore e adesso incomincia a buttarlo fuori. Quando vedi la curva della CO2, quello che abbiamo combinato negli ultimi cent'anni, è un bel disastro. Qui bisogna cambiare la rotta. Bisogna cambiare la cultura, bisogna che la gente sia messa al corrente. Ci vuole cura, cura dei valori della persona. È solo se ti vuoi bene, che poi vuoi bene anche al tuo ambiente. Così possiamo salvare la situazione. , cosa significa il problema che vole ancora... Eh, buona giornata però voglio sapere il nuovo Gesù. Il buono dei valori della workshops.